È funzionale perché effettivamente si, aiuta in tantissime situazioni, esempio Google, ti dico la cosa basilare, Google io mi trovo in una città che non conosco, mi collego un attimino, trovo tutto quello di cui ho bisogno, che sia mappe, che sia un'informazione su una persona, un bar, un ristorante, di tutto, però allo stesso tempo è come se un può tagliare i rapporti umani con le persone e questo è il mio punto, quello che penso, però fondamentalmente è la svolta, è proprio una svolta, ha cambiato tutto, a livello di social, a livello di inter, è tutto, tutto.